Nella scuola Don Milani di Via Sacco a Pescara i bambini e gli insegnanti convivono con una situazione difficile considerando che da un anno c'è un cancello rotto e ci sono degli infissi senza inferriate. La denuncia è arrivata dal capogruppo di FLI al comune di Pescara Messimiliano Pignoli che ha tenuto assieme ai consiglieri Giuseppe Bruno e Daniela Arceri Mastromattei una conferenza stampa dinanzi all'istituto. La denuncia riguarda una scuola che si trova in un quartiere difficile dove esistono carenze strutturali e problematiche varie che non possono essere più sottovalutate. Proprio la settimana scorsa è stato denunciato alle forze dell'ordine l'ultimo furto in ordine di tempo mentre i bambini sono costretti a consumare i pasti in un locale angusto adibito a mensa ma che non pare avere i requisiti adatti. E' stato quindi sollecitato un intervento dell'amministrazione comunale per risolvere tutti i problemi in questione paventando anche una segnalazione alla Procura della Repubblica. Massimiliano Pignoli Ci hanno segnalato alcuni genitori nei giorni scorsi che la mensa è praticamente un buco non ci sono possibilità di entrare in ogni istante perché non c'è sicurezza, il cancello è rotto da una vita e soprattutto le finestre non hanno possibilità di respingere qualcuno che volesse, malintenzionato, volesse venire a rubare. Tant'è vero che l'ultima denuncia è stata effettuata appunto proprio durante le feste di Natale quando alcune persone si sono introdotte all'interno della scuola.